un genere che ormai è diventato stantico è incredibile come si possa arrivare da le stelle non alle stalle non esagererei così tanto ma insomma siamo vicini alla porta un enorme stallo per tutti ragazzi io sono andrea doraz o semplicemente doraz e benvenuti in questo nuovo video sigla o eccoci qua eccoci qua allora allora ho fatto un video per chi non mi conoscesse non da recuperare della di qui sopra è un video che tratta proprio questo argomento che dicevo nella parte iniziale di questo video ovvero che forse i supereroi stanno cominciando a stancare i film sui supereroi intendo ho fatto un video appunto qui andavo a spiegare secondo me i motivi per cui i supereroi un po stanno stancando insomma devo recuperare secondo me è un'analisi potrebbe essere interessante magari qualcuno di voi anche più incalliti in merito ai film di supereroi potrebbero essere d'accordo lo lascio anche alla fine di questo video così magari se non volete interrompere questo video ve lo andrete a vedere alla fine avete immagino capito di cosa andiamo a a parlare oggi però non voglio infierire sui supereroi non voglio assolutamente infierire perché oggi andiamo a parlare aspettate prima di cominciare vi ricordo che qui sotto trovate tutti i link per seguirmi su tutte le varie pagine che ho a disposizione trovate tutti i link in descrizione mi raccomando andatevi a seguirmi ci mettete due secondi per me è importantissimo anche perché anche perché come ci dicono i dati ci dicono a chi siamo i dati di youtube molti entrano sul mio canale guardano alcuni video eccetera ma magari non si iscrivono veramente tanti lo fanno in realtà e quindi se vi iscrivete io acquisisco molti più iscritti molte più visualizzazioni molto più tutto e quindi mi fa tantissimo piacere quindi fatelo ragazzi è importantissimo mettere like al video e iscrivervi appunto al canale come dicevo pochi anzi ripeto non voglio infierire non voglio infierire perché perché ovviamente insomma io anche ci sono cresciuto con film di supereroi e anche il Marvel Cinematic Universe in un certo senso ha accompagnato una buona parte della mia vita soprattutto quando ero più piccolo in un certo senso quando hanno cominciato ad uscire questi film e si capiva che erano quell'età in qualche modo insomma ancora non si era mai essere una cosa così figa quindi oggi non vado a dirvi i più brutti perché sicuramente farà una top sui più brutti potete stare tranquilli di questo io mi dirterò un po' a insultare e voi non vi offenderete se vi piacciono quei film promettete ma oggi invece vi parlo dei 10 film del Marvel Cinematic Universe nel dettaglio più belli secondo me devo dire che è stato veramente difficile trovarne 10 mi spiegherò anche il motivo ho evitato di mettere i sequel cioè se per esempio ho messo che ne so Thor ho pensato di mettere perché ovviamente volevo metterlo Thor non perché per forza che devo mettere Thor però ho pensato di mettere solamente il primo film piuttosto che magari dottor strange piuttosto che insomma ho evitato di fare una classifica in cui sono tre guardie nel galassia tre Avengers tre quello insomma ok per farlo per farla un po' più variegata anche perché ho parlato già ampiamente per esempio dei guardie nel galassia ho fatto un video apposito che vi lascio qui sopra è sempre alla fine di questo video su tutta la trilogia così potete magari saperne più nel dettaglio cosa ne penso e quindi insomma non mi andava di renderla monocono quindi ho cercato di spaziare il più possibile cercando qui e là qualcosa che mi aveva colpito di un film piuttosto che un altro ok peraltro appunto mi sono accorto che non avevo mai fatto una top 10 sui film della Marvel e quindi mi sembrava doveroso o no cominciamo subito dalla decima posizione alla decima posizione ho messo un film che sicuramente a qualcuno farà sforciare Nato che sia in questa classifica al posto di altri ma io personalmente almeno in questo film ho trovato qualcosa che era veramente interessante che poi sia stato strutturato in maniera un po' così quello è un altro discorso sto parlando di Avengers Age of Ultron un film che secondo me aveva dalla sua un'ottima regia un ottimo montaggio soprattutto nelle scene d'azione c'era quella scena incredibile l'azione nella neve in cui tutti i nostri Avengers si schierano in questa inquadratura secondo me l'azione è veramente bella poi la storia era un po' così andava ad aggiungere alcuni personaggi interessanti come Scarlet Witch e il povero Pink Silver che muore ucciso dai proiettili nonostante lui sia super veloce e dovrebbe evitarli invece viene ucciso come uno stronzo il grande Iron Terror Johnson peraltro ma comunque una cosa che veramente mi era piaciuto tanto era proprio Ultron ovvero questa intelligenza artificiale se possiamo così dire creata proprio da Tony Stark e quindi che si è praticamente ribellata una cosa comunque interessante in un film di supereroi la costruzione di questo Ultron e poi la sua evoluzione durante il film non mi era per niente dispiaciuta se non fosse che poi viene ridicolizzata da alcune scelte tristi tipo quando lui guida il camion ma dove cazzo va Ultron che guida il camion una cosa inguardabile e poi comunque dopo viene abbastanza ridicolizzato cioè a un certo punto questi eventi sono talmente tanto forti che i nemici che vanno a combattere non lo so non riescono a stargli dietro questo Ultron poi fa un po' la fine dell'idiota però alcune cosine mi erano piaciute di questo Avengers e Joe Ultron ripeto a partire anche da una regia interessante e forse una durata un po' eccessiva però alla fine era un film piacevole e non mi era dispiaciuto non era facile secondo me fare un film di questo tipo dopo tanti film che avevano stati fatti quindi io l'ho apprezzato in un certo senso sicuramente non è un gran film è un film che rimane un po' nel mezzo e credo che meriti di stare in questa mia classifica volevo citare proprio questa cosa del fatto che Ultron non mi era per niente dispiaciuto visto che comunque nei film del Marvel si chiama di più difficilmente ho trovato dei villain all'altezza dei protagonisti cosa che secondo me è abbastanza importante in un film del genere decimo posto per Avengers e Joe Ultron andiamo al nono posto al nono posto ho messo un altro film che ha un po' di problemi questo come il successivo che dirò alla ottava posizione sono film che hanno sicuramente dei problemi incredibili dal punto di vista proprio della scrittura, della storia, della scrittura dei personaggi sto parlando di Captain America Civil War il terzo capitolo della diciamo minisaga di Capitan America perché ha un problema enorme questo qui purtroppo è un film che vuole aggiungere tanti personaggi nuovi alcuni in maniera interessante altri che sembrano proprio campati per aria una storia di supereroi dove i nemici sono i supereroi stessi lasciando che poi sia anche Daniel Brühl in mezzo comunque un attore interessante che però secondo me non è che sia proprio così interessante in questo film questa lotta interiore tra i buoni e i buoni possiamo dire poteva secondo me essere gestita molto meglio e senza dover per forza aggiungere 60 milioni di personaggi usciti da altri film che quindi insomma diciamo che se vedi solo questo un po' dici ma questo chi cazzo è? ma questo chi è? ma quest'altro chi è? ma dove è uscito fuori? però diciamo che considerato che vanno visti Civil War in particolare va visto come un film cioè questo qui lo potremmo chiamare anche Avengers se possiamo dire cioè Avengers contro Avengers non lo so come lo potremmo chiamare Civil War magari per riferirsi poi ai fumetti però insomma Captain America questo sarebbe il terzo capito di Captain America cioè se tu vedi Captain America 1 Captain America 2 ok hanno un senso Captain America 3 non ha senso cioè è un film proprio che va aggiungendo è proprio un'altra cosa insomma quindi se non è anche il titolo è un bel problema di questo film che però comunque ripeto ha aggiunto dei personaggi interessanti che potevano sembrare interessanti come Black Panther piuttosto che lo Spider-Man di Tom Holland che poi per me si è rivelato un flop gigantesco proprio a livello di carisma di tutto quello che può essere un Peter Parker un Spider-Man ecco però sto lasciando questo ripeto è una cosa interessante vedere i buoni che combattevano contro i buoni poi i motivi per cui questi combattono insomma insomma alcuni sono un po' visti e rivisti altri sono discutibili ma alla fine è stato un film piacevole posso dire anche questo è un film che non è né bello né brutto sta un po' nel mezzo ma ripeto non mi è dispiaciuto la cosa era interessante soprattutto considerando che nel 2016 se non sbaglio quando era uscito questo film insomma non si era mai vista secondo me una cosa di questo tipo sicuramente potrebbe essere sottotata meglio anche il finale è un po' così però alla fine ci siamo divertiti e quindi non ho posto per Capitan America Civil War tra l'altro questo film forse è più protagonista e non mi è capitano America ma lasciamo perdere ripeto il titolo è veramente una trollata andiamo al ottavo posto all'ottavo posto se non sbaglio vado a fare un check ho messo un'altra war che però non è Civil ma è Infinity ovvero Avengers Infinity War un film che anche questo ripeto come Civil War ha moltissimi problemi però almeno è un po' più Avengers effettivamente ripeto anche questo se non hai visto altri 65 film non ci capisci niente i personaggi sono scritti praticamente con l'accetta perché è normale che non possono rimettersi a ripresentare ogni protagonista se sono 65 protagonisti però devo dire che nonostante Thanos per me sia un personaggio super sopravvalutato solamente perché negli altri film ci sono dei villain che fanno ridere e quindi Thanos sembra un personaggio interessante forse funzionava meglio sui partiti nella galassia dove stava lì si percepeva la sua forza che però non entra mai in battaglia qui diciamo che ci può stare anche la CGI non è fatta male almeno sul personaggio ma il resto è abbastanza tremendo però però in un certo senso qualcosina di interessante usciva fuori e quindi credo che alla fine anche qui ci buttavano in mezzo anche i guardiani da galassia che fa sempre piacere vederli nonostante non sia la stessa cosa che vederli da soli andavano un po' a gestire tutti i vari personaggi facendo un bel agglomerato qui per chi era diciamo fan dei film c'era abbastanza roba interessante ecco questo qui lo definisce uno dei migliori cinecomics degli ultimi anni io credo di no certo è che gli ultimi film che stanno facendo fanno rivalutare qualsiasi cosa cioè anche questo Infinity War sembra quasi un buon film rispetto alle ultime cacate che stanno facendo quindi alla fine mi sento di dire che io al cinema l'ho percepito in maniera positiva questo film nonostante sia a conoscenza di tutti i problemi che può avere a livello proprio di messa in scena a livello visivo certe volte è veramente una roba assurda visivamente purtroppo alcune scelte narrative un po' così la storia che insomma non è proprio il massimo questi suoi eroi che sono degli idioti anche i guardiani della galassia stessi nonostante nel film originale fossero idioti ma erano idioti diversi fanno proprio le stronzate per dei motivi abbastanza ridicoli perdono la testa senza motivo penso a Quill quando stanno per sfigare il guanto di infinito a Thanos poi c'è anche da dire che i personaggi sono talmente forti i nostri supereroi che è veramente era talmente facile uccidere questo Thanos che non si capisce come fanno non ucciderlo dopo tre secondi è imbarazzante imbarazzante quindi su questo se vado a vedere nel dettaglio c'è il rischio che non finisca ma anche in questa classifica il problema è che ci sono gli altri film che sono talmente tanto brutti che questo qui ripeto risulta anche divertente quindi alla fine posso in un certo senso promuoverlo e quindi ottavo posto per Avengers Infinity War andiamo al settimo posto e ci troviamo un film molto interessante di Scott Derrickson ovvero Doctor Strange un film finalmente su un personaggio che non si era mai visto a livello di cinecomics molto interessante Doctor Strange anche un pizzico dark in un certo senso quindi anche Doctor Strange 2 era interessante però preferito metterci questo perché secondo me su alcune cose questo è migliore su altre il 2 forse che sono un po' più dark ci sono delle scene un po' più fighe però forse non è migliore di questo Doctor Strange 1 sono più o meno sullo stesso livello preferito però dare qualcosina in più a questo Doctor Strange 1 perché secondo me è un film interessante e Benedict Cumberbatch è perfetto nei panni di questo Doctor Strange anche il finale è molto figo insomma un film non banale sicuramente anche qui manca la forza di un villain però come storia di iniziazione è uno dei migliori del Marvel Cinematic Universe quindi Doctor Strange si merita assolutamente il settimo posto andiamo al sesto posto siamo arrivati non è migliore degli altri film che ho detto adesso sicuramente no però a me mi ha fatto veramente simpatia in certe scelte e secondo me è stato sfruttato il potere di questo personaggio in maniera intelligente che quindi è venuto fuori delle scene secondo me esilaranti e quasi iconiche nel mondo del cinecomics sto parlando di Ant-Man un film scansonato divertente con un po' rude abbastanza in parte ci sono quelle scene in cui lui è piccolo con il treno che sono divertentissime e quindi anche il potere di questo Ant-Man che è un altro film di origini diciamo proprio come Doctor Strange funziona funziona anche nel momento in cui vengono raccontate le storie sono un po' così un po' divertenti è un film leggero che non si prende troppo sul serio cosa che questo film di supereroi dovrebbero fare perché non vuol dire che non sono seri perché comunque anche le tematiche ci sono in questo film però magari di rendersi conto che sono semplicemente dei supereroi dei divini calzamaglie quindi magari prenderla un pochino meno seriamente ecco in questo senso per Ant-Man è perfetta questa idea e quindi credo che funzioni veramente bene e io lo apprezzo devo essere sincero lo ho apprezzato gli altri seguiti direi meno molto meno molto meno invece questo qui è molto molto carino e come film di origini ci sta assolutamente anche l'idea della trasformazione delle cose era veramente gestita bene e quindi si merita il sesto posto Ant-Man andiamo a metà classifica quinto posto a metà classifica ho messo un altro film che secondo me è un po' sottovalutato diretto da Kenneth Branagh con protagonista Chris Hemsworth ovvero Thor il primo il primo Thor che secondo me non è per niente male sottovalutatissimo questo Thor ci sono delle scene divertenti ci sono delle scene serie comunque il potere di Thor è interessante è figo il martello che lo gira fu che vola i tuoni i cosi insomma fatto abbastanza bene è che la storia non è male il fratello Loki insomma ci sono tutta una serie di cose interessanti in questo film posso dire che è un film di supereroi che non mi è dispiaciuto anche l'idea di come è stato reso il mondo di questi asgardiani non è per niente male e il fatto di lui che deve essere degno di brandire il mignol il martello insomma è una cosa che secondo me ci sta tutto assolutamente veramente bello bravo anche Natalie Portman quindi è un film veramente bello secondo me sottovalutissimo questo Thor e quindi per me merita assolutamente una metà classifica interessante anche l'erogia comunque è un regista che ci sa fare ecco poi in quel momento la Marvel ha scelto dei registi che erano bravi ma che sapevano anche essere diciamo gestiti e quindi per me sono stati gestiti bene in questo caso ha fatto un discreto film Thor quindi quinto posto meritatissimo andiamo al quarto posto a un passo dal podio e come sapete a me piace ripetere a un passo dal podio abbiamo al quarto posto Captain America Winter Soldier un film bellissimo ecco questo è il giusto esempio di un film di supereroi che si prende sul serio ma lo fa in maniera consapevole in un certo senso senza dover esagerare in cose pacchiane eccessive magari fa Zack Snyder solitamente per i suoi film che pensa di essere serio invece sfoca nella ridicolagine invece qui veramente abbiamo di fronte un film di spionaggio un film che viene costruito attraverso dei flashback un film che dà anche una giusta caratterizzazione al nostro protagonista all'amico perduto che è diventato diciamo il villain del film questo soldato d'inverno interpretato secondo me benissimo da non mi ricordo il nome porca miseria tanto lo sapete voi come si chiama quindi va benissimo diciamo Bucky visto che il personaggio si chiama così infatti lui per me è bravo ovviamente un bravo attore ho visto dei film molto interessanti comunque e quindi insomma questo Winter Soldier è un film veramente interessante è liberato spionaggio l'idra nascosta sotto shield insomma una roba veramente fighissima quindi io non so non vado pazzo per Capitano America ma secondo me questo film è il migliore che hanno fatto di Capitano America anche lui non era malissimo anche se io inizialmente avevo visto che mi ha fatto impazzire poi magari leggermente ho riportato ma questo Capitano America Winter Soldier è veramente bellissimo peraltro ho girato da quei due che hanno girato anche Avengers Infinity War e Endgame e secondo me erano meglio che rimanevano in questo in questo ambito qui perché veramente tanta roba lì poi si sono persi e hanno fatto la solita diciamo il solito minestrone con tutti i supereroi che si vengono tutto il tempo e quindi Winter Soldier merita se non è il quarto posto ma non era abbastanza per arrivare al podio perché al podio al terzo posto io ci ho messo il primo Iron Man che io sono particolarmente legato perché per dire tutta la parte iniziale mi piaceva tantissimo di lui che veniva rapito portato nella grotta e con quell'altro che lo aiuta a costruire l'armatura fighissima la prima armatura di Iron Man ovviamente spiegato a quella dei fumetti mi piaceva tantissimo e anche il personaggio di Tony Stark Robert Downey Jr bravissimo era interessante era un personaggio quasi anti-eroe un personaggio che vendeva le armi e quindi aveva dei messaggi importanti è sempre questo il discorso è un film che comunque si prende sul serio in un certo senso perché tratta argomenti molto molto complessi come appunto il fatto di un personaggio che dalle vendite degli armi poi capisce che queste sono il male e quindi tutto quello che portano quindi un personaggio che ha un'evoluzione importante nel film un avvenimento che lo cambia e lo fa diventare un vero eroe se possiamo così dire tra l'altro c'è anche qui un Jeff Bridges incredibile come personaggio diciamo villain quindi c'è una scena per me che rimane secondo me iconica veramente iconica lasciando una scena che lui si costruisce l'armatura e quelli gli sparano e poi fa ora tocca a me oh e spara e lancia a pian e poi vola e si sfracella tutto quando a terra è stupenda ma c'è quella scena incredibile incredibile che fa capire il genio del personaggio protagonista allora ci siete riusciti a fare questo reattore più piccolo per alimentare questa armatura perché Iron Man c'è questo reattore anche quella è una cosa bellissima che utilizzando questo reattore riusciva a mantenere lontano le schegge della granata che gli erano scoppiate vicino dal cuore se non mi sbaglio insomma dagli organi vitali bellissima questa cosa dava anche un senso quasi robotico a questo personaggio alla Robocop possiamo dire e quello gli fa sì signore ci abbiamo provato ma tecnicamente è impossibile quello gli fa Tony Stark ci è riuscito dentro una grotta con una scatola di rottami e quello mi dispiace tanto signore io non sono Tony Stark bellissimo e quindi secondo me questo film merita assolutamente il terzo posto della mia classifica medaglia di bronzo e noi è ancora finito il video in realtà dobbiamo fare ancora il secondo e il primo posto quindi andiamo al secondo posto medaglia d'argento medaglia d'argento secondo me per la godura di tutti i fan di questi film e soprattutto del cinema in generale perché The Avengers diretto da Joss Whedon è secondo me il culmine qualcuno dice che ha immecchiato male adesso vorrei rivederlo ma io ricordo veramente in maniera così abbastanza chiara che certe scene erano veramente interessanti i personaggi protagonisti per la prima volta insieme erano uno più stronzo dell'altro sembravano quasi non si riuscivano proprio a trovare davanti loro e questa cosa mi era piaciuta tantissimo era piaciuta tantissimo anche il villain di questo film ovvero Loki che funzionava benissimo con la sua armata di chitosauri e l'altro ma cazzo si chiamavano i chitosauri ma cazzo si chiamavano i chiti vabbè una cosa del genere ma sapete a me io su queste cose non è che so tanto ma sicuramente voi siete molto più fan di me dei dei di chitauri ecco come si lo sono ricordato e con queste armate di mostri incredibili e quindi è uno che li spacca tutti quella scena incredibile con quel 360 gradi su tutti i nostri eroi che arrivano quello si prende il martello quello si prende lo scudo quello si esalta e fa e urla quell'altro arriva con l'armatura insieme a noi cioè uno più figo dell'altro e quindi secondo me questo film ha assolutamente il pregio della sua di aver portato sullo schermo tanti supereroi creando comunque una caratterizzazione coerente anche con i vari film che erano usciti ma rendendo il film un film vero e proprio e quindi una cosa interessante un film veramente tanta roba con un bel villain una bella storia e una bella sceneggiatura secondo me poi se mi chiedo un po' male gli effetti speciali che mi piacciono più chi se ne prega io personalmente mi vedo bene pure i film del Batman di Tim Burton con quegli effetti speciali quindi io forse non faccio testo ma comunque ripeto secondo me è un film che ha dalla sua questa incredibile messa in scena che secondo me rende il film veramente meritevole di stare in questa seconda posizione in materia d'argento per The Avengers di Joss Whedon andiamo al primo posto medaglia d'oro medaglia d'oro secondo me per la gang più strampalata che si poteva vedere in un film di cinecomics sto parlando di I Guardiani della Galassia un film che secondo me assolutamente batte tutti qui ripeto non ho messo il 2 non ho messo il 3 perché comunque sono film e per me valgono lo stesso un ottimo lavoro è stato fatto da James Gunn per questa trilogia però insomma volevo premiare il primo film è quello che più mi è rimasto impresso ho detto ma questo film è totalmente folle un film di supereroi che sono uno meno supereroi dell'altro nel senso un albero che dice sempre la stessa cosa o un profione parlante mezzo cibernetico un cretino che pensa di essere un fuori legge e invece non se lo caga nessuno insomma i figli di Thanos e tutta la gente tutta la gente che tu dici questa qui non potrebbero mai stare insieme eppure nonostante questo nonostante le divergenze riescono a creare una bella squadrita e divertentissimo bellissimo pieno di anche di messaggi interessanti non è un film banale una regia secondo me superba superba gli effetti speciali che ancora ancora funzionavano bene a quel tempo poi dopo un po' si sono persi anche loro sugli effetti speciali il 2 e il 3 un po' più CGI ma comunque resta interessante la struttura dei personaggi alcune scelte visive incredibili e quindi che dire i guardi dei classi secondo me è il miglior film del Marvel Cinematic Universe a mani bassissime probabilmente molti di voi non saranno d'accordo con me soprattutto i fan dei fumetti ma questa è la mia personale classifica vi chiedo di rispettarla e soprattutto di apprezzare quello che ho fatto perché comunque a me capite amo tantissimo parlare di questo potesse insultarmi tutto il giorno io continuerei a farlo però insomma io rispetto la vostra ma voi rispettate la mia e quindi niente spero di aver detto tutto che dovevo dire su questo guardiente galassia su tutti i film che ho citato spero che vi possa essere piaciuta questa mia classifica personale fatemi sapere voi cosa ne pensate di questi film della vostra classifica personale se potete scrivere top 5 top 3 top 10 scrivete quello che vi pare scrivete solo il primo che vi piace del più di tutti il vostro preferito tutto nei commenti se vi va ho deciso di fare adesso questa classifica perché penso che difficilmente troveremo film del Marvel Cinematic Universe che saranno più belli di questi non ci ho messo dentro i film degli X-Men perché sapete che sono divisi uscirà poi Deadpool 3 che in realtà fa parte del Marvel Cinematic Universe quindi un po' mi fa paura questa cosa però non lo so speriamo sarà bello insomma però ho pacifilito mettere solamente quelli proprio dei Marvel Cinematic Universe quelli proprio che erano quelli più importanti diciamo così e quindi niente noi ci vediamo alla prossima vi mando un bacione e ripeto scrivete qualcosa nei commenti fatemi sapere ci vediamo a prossima ho detto già dieci volte e ciao a tutti grazie a tutti